Codice rosso, come la sanità pubblica è diventato un affare privato per fuorissima di recessi. Cosa vuol dire? Allora, vuol dire che il servizio sanitario pubblico si sta via via svuotando, uno sgretolamento che è iniziato vent'anni fa e poi ogni governo ci ha messo del suo, perché mancano i medici, perché mancano gli infermieri, perché le scuole di specialità non sfornano abbastanza, perché la medicina territoriale che già aveva un grosso problema si è mostrata, la pandemia ha fatto esplodere le carenze che aveva al suo interno proprio organizzativo e vuoi per via del fatto che anche lì non ci sono abbastanza medici. Ognuno ha il medico di famiglia, sa se è contento o meno. Insomma, se la maggior parte è insoddisfatta vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e qualcosa che non funziona lo mostrano i dati. Abbiamo 4 milioni di accessi impropri al pronto soccorso. Ogni anno accesso improprio vuol dire se hai una figura di riferimento intermedia al pronto soccorso non ci saresti venuto per la congiuntiva. Se vai a... perché hai... appunto ti bruciano gli occhi e vai al pronto soccorso è perché manca il medico e famiglia che ti... E perché non sei riuscito a trovarlo. E là ci sono tante ragioni. Eccetera. Gli ospedali invece, che problema hanno gli ospedali pubblici? Gli ospedali pubblici hanno il problema della carenza dei medici, del taglio dei posti letto e risentono ovviamente delle liste d'attesa pesantissime perché le persone che devono andare a fare visite o esami diagnostici all'ospedale vanno. E poi, ripeto, il problema dei medici che mancano al pronto soccorso nei reparti di medicina di emergenza urgenza, nei reparti di radioterapia, eccetera, questo rende problematico tutto quanto. Facciamo un passaggio. Se il pubblico va male, perché diventa un affare dei privati? Diventa un affare dei privati e qui e soprattutto tornando alle liste d'attesa, no? Anche l'ultimo decreto di luglio, che riprende decreti che già esistevano da quel dì. Queste norme sono già previste da anni se non da decenni. L'hanno ridetto. L'hanno ridetto. L'hanno ridetto. Un decreto di urgenza per ridire quello che è già stato detto. Che effetto ha? Allora, il problema è che nel momento in cui quello che si è visto e si vede poi chiaramente in Lombardia, ma anche in altre regioni, parlo della Lombardia perché è stata la prima a, con Formigoni, a mettere sullo stesso piano il privato convenzionato, il pubblico, no? Stessi diritti, stessi doveri. Benissimo. Quel che si vede è che in realtà loro non smaltiscono, non aiutano il pubblico a smaltire le liste d'attesa, al contrario spingono affinché le liste d'attesa rimangano lunghissime perché così si va in attività privata. È evidente che chi ha un problema se può permetterselo e se hai un problema trovi il modo di potertelo permettere. L'esame lo vai a fare subito, il giorno dopo con l'attività privata. Carenza di sanitari, sono pochi i medici, sono pochi gli infermieri, addirittura il governo che riporta gli immigrati, anzi li manda in Albania, sta pensando di chiamare 10.000 indiani per fargli infermieri. Beh, se mancano gli infermieri, da dove li prendono, da dove arrivano, arrivano. Certo, noi formiamo i nostri, devono essere laureati. Però, siccome sono pagati qualcosa, insomma, lo stipendio di un infermiere è 1.900 euro l'ordi e non è, voglio dire, il massimo. Teniamo presente che i nostri infermieri fanno i corsi, fanno la triennale, sono laureati. Qualcuno ha anche 5, sì. Esattamente. Per esempio, quelli in Lombardia vanno verso la Svizzera, vanno nel canton Ticino perché sono pagati 3-4 volte tanto, ma anche presso le strutture pubbliche si sono visti i cartelli di ospedali stranieri, per esempio del nord Europa, che fanno incetta di infermieri da noi. Quindi noi li formiamo e poi se ne vanno. Questa è una cosa. L'altra è che si formano pochi perché è un lavoro molto duro. Siccome mancano dentro agli ospedali, devono sempre rimpiazzare anche il turno di chi non c'è. Quindi fanno orari che sono veramente pazzeschi. Lo stipendio è molto poco. Possibilità di carriera quasi zero. E di conseguenza perché uno dovrebbe fare l'infermiere. L'intenzione dichiarata, l'auspicio dichiarato è di allentare le liste d'attesa dalla possibilità alle farmacie di dare servizi aggiuntivi, oltre a quelli che già dà a pagamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi può anche essere una buona idea, ma deve essere regolamentata. Regolamentata non è. Sta di fatto che la ricaduta di questa offerta da parte delle farmacie, ripeto, il sottosegretario è un farmacista. Quindi sa quel che fa. E' sulla spesa pubblica, diciamo. Io ho raccolto testimonianze, insieme a Simone Ravizza e ai pronto soccorso dicono vediamo arrivare pazienti mandati dalla farmacie perché al primo esame con un lieve parametro fuori controllo ovviamente il farmacista non conosce l'anamnesi del paziente, non la può valutare in un quadro complessivo e quindi lo manda al pronto soccorso. Quindi solo se sono buone le analisi vale la... E di conseguenza questo cosa vuol dire? Vuol dire che anziché allentare le liste d'attesa le aumenta. Vedremo come finirà il conflitto interessi, l'effetto è stato che la società ha tolto la frase, diciamo. L'unica... ha tolto l'attimo di onestà con cui era stata pubblicizzata. Beh, ma l'attimo di onestà sarebbero delle dovute dimissioni a mio parere. Allora, dunque, non è una novità, no? Abbiamo questi fra gli 80 e i 100 miliardi l'anno che ballano di evasione. Sa di fatto che calcolando, per esempio, il costo sanitario pro capite di 2200 euro, quello per l'istruzione di 1300, quello per il welfare di 2006. Quindi ognuno, in base alla propria capacità contributiva, dovrebbe pagare queste spese, che sono spese che vengono sostenute. Attraverso l'IRPEF le paghiamo? Attraverso l'IRPEF. Che cosa succede? Che in realtà soltanto il 15% del totale dei contribuenti paga la propria spesa sanitaria, la propria spesa per l'istruzione, la propria spesa per il welfare e anche quella per tutti gli altri. Essendo che abbiamo un 60, cos'è, il 15%, quindi il resto versa, dichiara redditi che sono inferiori alla... che hanno una NIRPEF applicata non sufficiente per pagare questi tre filatri. Lavoratori dipendenti e pensionati, quindi, pagano tutto fondamentalmente. Sì, dai calcoli fatti, insomma, sostanzialmente ci sono 31 milioni di italiani, fatti da dipendenti, pensionati e autonomi, che dichiarano meno di 29 mila euro di reddito imponibile. Questo vuol dire che non si pagano, non sono in grado di pagarsi la propria spesa sanitaria. Non pagano abbastanza IRPEF per pagare la spesa sanitaria. Se poi si va nel dettaglio, su chi dichiara meno di 29 mila euro, se andiamo a vedere negli autonomi, sono 2 milioni e 2. Di questi 2 milioni e 2, 1 milione e 3 dichiara sotto i 29 mila euro. Di cui, se guardando i parametri ISA e quindi chi è a rischio evasione, viene considerato a rischio evasione, chi ha un livello di affidabilità sotto al voto 8, qui troviamo il 70% dei meccanici che dichiara un reddito di 20 mila, 800 euro. Poi abbiamo i ristoratori che stanno attorno ai 12 mila, anche lì il 70%, il 60% dei panetieri che sta sugli 11 mila per arrivare al 11 mila, il 68% dei baristi, più del 40% dei balneari a 8 mila. Sono cifre realmente difficili poi anche da credere, perché siamo tutti contenti di pagare per chi non ce la fa, ma per chi imbroglia no. E tu a questo spot ci credi, guardate. Bella la vita di un evasore. Non dichiara niente e vive sulle spalle degli altri. Ordina una dozzina di ostriche, tagliolini al tartufo, uno bello grande e non rinuncia mai alla ragosta, tanto non paga lui. Paghi tu? Io. Ma da oggi la bella vita è finita. L'evasione si paga. Da oggi ancora più controlli e sempre meno evasori. È il governo giusto per far finire la bella vita agli evasori? Ci credi in questi controlli? Io so che la Corte dei Conti ha detto che i controlli sui contribuenti vengono controllati il 4,5% dei contribuenti. Ma questo, ripeto, c'è una ragione a tutto questo. Sicuramente c'è una ragione politica dove la lotta all'evasione noi non la vediamo da nessuna parte. non si vede, non si è vista. Se non, come dire, questo patto, no? Veniamoci incontro con il concordato preventivo. Il concordato preventivo che è la copia di quello che aveva fatto vent'anni fa a Tremonti, ma non andò bene, purtroppo. Ma neanche questa volta, sembra. Non lo devono riaprire. Forse andrà anche. Ne abbiamo parlato e ne riparleremo. È probabile che vada anche peggio. Quindi, da una parte, insomma, sono scelte politiche. che è ovviamente quello di decidere di perseguire l'evasore. Dall'altra ci vogliono le risorse. E da quel dì che mancano risorse. Sia la Guardia di Finanza e 10.000 persone all'Agenzia delle Entrate. Come vuoi che l'ha fatto? Allora, le agevolazioni sono aumentate. Nel 2018 avevamo poco più di 500 tipi diversi di agevolazione. Adesso sono 625. Hanno razionalizzato. Quindi si è passati. Sì, in peso è... Si è passati da... Pesano sulle casse dello Stato. Sono passati da 54 miliardi a 105. Quindi, le agevolazioni, le detrazioni, le deduzioni, sì. Ci sono tante cose che vanno bene, altre che vanno meno bene. Cioè, per esempio, se si potesse detrarre... Ora, se si potesse detrarre l'idra... Una parte dell'idraulico, per esempio, no? Per tornare ad una categoria... Lo si porterebbe se non altro a denunciare... Se non altro lo si porterebbe... Per cui, anche lì, le questioni vanno ragionate. Cioè, i numeri di per sé, presi a caso, valgono un tanto al chilo.